La costruzione dell'affano del 2030 inizia dal piano regolatore generale, lo strumento che valorizza le risorse del presente per rendere abitabile, accessibile e attiva la città del futuro. Dopo essere state studiate attraverso il piano strategico tutte le componenti socio-economiche, demografiche e di sviluppo della città studiate dall'Università Carlo Bo di Urbino, consegnando un'istantanea che consente l'individuazione degli obiettivi, consentiranno così al nuovo piano regolatore di attuare le trasformazioni in ambito urbanistico dell'affano del 2030. Ci siamo resi conto che una città non si trasforma se i soggetti attori della trasformazione non collaborano alla definizione degli obiettivi insieme all'amministrazione pubblica, cioè non è solo la visione pubblica che rende possibile la trasformazione, bisogna che tutti quanti concorrano per quello che possono verso il conseguimento delle visioni al futuro. Dialogo con i cittadini e parti interessate, analisi territoriale ed un'analisi tecnico-urbanistica hanno definito gli indirizzi del nuovo piano regolatore, ora per l'assessore sono tre gli scenari dell'affano del futuro. La prima è la città abitabile, già Fano gode di una leggerezza urbana in qualche modo, un altro tema delle tre visioni del futuro è quello della città dell'innovazione aperta, quindi cercare di lavorare per creare questi, usiamo un termine anche straniero, gli hub dell'innovazione, questi punti di incontro tra ricerca e ricaduta sul territorio. L'altro tema, l'ultimo tema dei tre, chiaramente questo influenza ogni parte della pianificazione territoriale del nuovo piano, è quello della rigenerazione urbana, riattivazione delle risorse. Noi abbiamo un piano che quello che proporremo sarà consumo zero di terreno agricolo, quindi punta tutto sulla trasformazione urbana. Parlando di scadenze, l'assessore all'urbanistica definisce entro l'autunno del 2018 l'approvazione definitiva del nuovo piano regolatore da parte del Consiglio Comunale di Fano.